Presidente, due nuovi punti CAS grazie alla collaborazione con il Comune, un punto di vicinanza ulteriore verso i cittadini. Assolutamente sì, questo è uno dei nostri compiti, animare e muovere il territorio nell'ottica della gratuità del servizio. Non solo, ma questo ci permette di approfondire i rapporti con l'ente locale, con il Comune di Teramo, con i quali già sono molto buoni, e per futuri sviluppi che in qualche maniera abbiamo un po' in cantiere, ma adesso non vi diciamo nulla su questo. Mi sembra veramente qualcosa che avvicini delle realtà che a volte sono inconciliabili, a volte l'ente locale è visto come l'ostacolo a certe iniziative, a certe cose. Invece qui abbiamo trovato un terreno fertile ed è l'idea di una piazza, di una piazza dove dentro l'ente locale, il mondo del volontariato, il mondo dei servizi, il mondo del privato, possano collaborare per costruire un pezzetto di bene comune. Ci saranno due ragazzi che si stanno formando con il Comune di Teramo, e quindi due sportelli di fatto a disposizione dei cittadini che dal metà agosto fino al 15 settembre, date la scadenza delle domande per il CAS, potranno rivolgersi a questi ragazzi per essere aiutati nella compilazione, che è online, su una piattaforma online, c'è bisogno dello speed, quindi è chiaro che magari qualcuno potrebbe trovarsi in difficoltà. E proprio in questa ottica il Comune di Teramo ci ha chiesto se eravamo disponibili a dare una mano e noi siamo stati ben felici di poterlo fare. Ultimamente con l'ordinanza 899, il Protezione Civile e il Commissario Straordinario per la ricostruzione post-fisma hanno deciso di iniziare questo percorso di informatizzazione che naturalmente ha tutti i lati positivi perché è tutto molto più ordinato, però purtroppo anche i tempi stretti non hanno permesso alle persone di riuscirsi ad adeguare a questa nuova situazione. Quindi abbiamo pensato insieme al CSV di aprire questi sportelli.